Il 1917 costituisce un anno di svolta della guerra che supera l'immobilismo degli anni precedenti. Fatti significativi sono il crollo del fronte orientale conseguente al ritiro della Russia dal conflitto e l'intervento degli Stati Uniti proprio per bilanciare l'assenza dei russi che faceva temere la vittoria da parte degli imperi centrali. Nel febbraio del 1917 scoppia in Russia la rivoluzione che vede una prima fase più moderata con la costituzione di un governo provvisorio e una seconda fase nel mese di ottobre che porta alla fine definitiva dell'impero zarista. La Russia non è in grado di fronteggiare la guerra e la rivoluzione interna contemporaneamente, decide quindi di ritirarsi e firma una pace separata a Brest-Litovsk. Alla rivoluzione bolscevica dedicherò una specifica lezione, per ora vi basti ricordare che come conseguenza il fronte orientale risulta indebolito e viene quindi favorito l'esercito austro-tedesco. Gli Stati Uniti si erano dichiarati neutrali dal punto di vista militare, ma erano coinvolti economicamente nel conflitto poiché fornivano aiuti alle forze dell'intesa. La guerra sottomarina, scatenata dalla Germania verso l'Inghilterra, aveva compromesso i commerci con gli Stati Uniti, che avevano subito anche perdite umane a seguito dell'affondamento di alcune navi, tra cui Lusitania, dove viaggiavano 100 passeggeri civili statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, aveva tentato una mediazione proponendo una pace senza vincitori, ma la Germania per tutta risposta aveva intensificato gli attacchi con i sottomarini, allo scopo di costringere gli inglesi alla resa prima di un probabile intervento degli USA. Questo convince l'opinione pubblica statunitense della necessità di intervenire nel conflitto, e tale idea si rafforza a seguito del ritiro dei russi, poiché una vittoria degli imperi centrali avrebbe impedito a Francia e Inghilterra di restituire i prestiti ottenuti. Tale decisione si concretizza con la dichiarazione di guerra del 6 aprile. Gli Stati Uniti entrano nel conflitto a sostegno dell'intesa, superando le divergenze tra democratici e repubblicani e l'attivismo pacifista molto esteso. L'intervento inoltre mette fine alla scelta di Monroe per l'isolazionismo, decisione pluridecennale che voleva rafforzare la politica e l'economia statunitense. Infine, l'intervento degli Stati Uniti coinvolge anche altri paesi ad essi legati come a Haiti, Cuba, Panama e Brasile. Sul fronte italiano il nostro esercito si trova in grave difficoltà. Gli austriaci e i tedeschi, infatti, spostano gli uomini impegnati in precedenza contro i russi e, sfruttando la disorganizzazione ai vertici dell'esercito italiano e la stanchezza dei soldati dovuta agli anni trascorsi in trincea, ottengono una schiacciante vittoria a Caporetto. Nel frattempo si apre un nuovo fronte nei Balcani, dove la Grecia entra in guerra a fianco dell'Intesa, costituendo insieme alle truppe inglesi di ritorno dai Dardanelli e ai serbi l'armata balcanica. L'obiettivo è quello di risalire la penisola balcanica e puntare contro l'Austria. Tra serbi, croati e sloveni si stabilisce inoltre un accordo per la fondazione di un regno jugoslavo che garantisca pari diritti alle diverse etnie di origine slava.